Elena Barani, solo le squadre che sanno soffrire arrivano lontano, questa Italia ha dimostrato di saper anche soffrire stasera? Assolutamente sì, hai detto ciò che è successo durante la partita è stato veramente un combattimento dall'inizio alla fine, siamo partite bene, poi loro sono tornate in partita, loro avevano il vantaggio di non aver ancora giocato, quindi erano un pochettino più fresche, noi però siamo rimasti attaccate con i denti, con le unghie, con tutto ciò che avevamo alla partita e fortunatamente è andata bene. Ramona, una vittoria pesante, di quelle che valgono doppio? Sì, è stata una partita molto combattuta, ce l'abbiamo messa tutta e alla fine siamo state ripagate. Una vittoria anche dal punto di vista fisico, atletico, la Macedonia veniva da un giorno di riposo, voi invece riservate giocato? Sì, ma quando vuoi una cosa noi ce la mettiamo tutta e puntiamo al massimo, ci vogliamo far vedere quando valiamo e giochiamo partita per partita fino all'ultimo. Sì, sei il MVP, come è stato questo match? Questo match è stato fantastico, abbiamo fatto un'eccelle lavoro, questo game è stato difficile e vogliamo farlo, ma è tutto questo. Grazie. 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 Grazie.